Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Valerio Scanu contro Rudy Zerbi. Sei una vergogna. Tensione alle stelle tra l'ex concorrente di Amici e lo storico professore. Tutto inizia dopo una polemica montata da Luca Jurman. Il cantante e musicista è arrivato a un punto di non sopportazione tale da costringerlo a condividere una serie di considerazioni ai danni dei suoi colleghi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tutto inizia quando quest'ultimi affermano che l'uso di autotune, nella musica moderna, non solo è accettato ma quasi consigliabile ai fini melodi. Chiaramente parafrasiamo. Luca Jurman ci va giù pesante e insieme a lui anche Valerio Scanu che firma e sottoscrive ogni parole dell'insegnante. L'uomo scrive, Zerbi sei una vergogna per la musica. Mosso da un messaggio che mi dice che ad Amici sono state espresse delle assurde motivazioni di rifiuto da parte di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli alla prova di canto senza l'aiuto dell'autotune, definendolo uno strumento e anche una cifra stilistica appunto. E ancora Luca Jurman, mi vergogno per loro. Inconsapevoli o no di trasferire volontariamente la loro indubbia ignoranza ad un pubblico diviso tra chi vuole verità e chi non la conosce. Chi usa lo stile di un altro non solo non è personale ma dimostra di non avere doti adatte all'unicità dell'arte. Poi dice Luca Jurman, tra l'altro, ho saputo che come ciliegina sulla torta, a giudicare questa sfida hanno chiamato come il giudice Ercomi, noto per avere delle abilità di canto enormi e che senza autotune non riesce quasi a parlare, ma almeno lui è stato onesto. Ed oltre ad ammetterlo ha detto che si allena a non usarlo per migliorare. È a questo punto che Valerio Scanu, senza neanche essere interpellato, decide di condividere il post di Jurman, rendendolo ancora più virale. Allora l'artista su Facebook ha commentato a corredo, condivido, sottoscrivo, firmo. Poco dopo, al ringraziamento di Luca Jurman, Valerio Scanu ha risposto, parliamo la stessa lingua. Continua quindi la polemica riguardo l'autotune. Ora resta da capire se Rudy Zerbi risponderà a tono, insieme ad Anna Pettinelli o se invece faranno cadere tutto nel dimenticatoio.